Oggi un vuoto alla spesa Lidl Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale che si è trasformata in una camera da letto Ragazzi ma ci sono 40 gradi siamo appena tornati da fare la spesa e non avevamo voglia di metterci in cucina perché ce ne sono 41 e quindi basta parlare Un altro vuoto alla spesa come voi sapete un bellissimo video non ve lo perdete guardatevelo tutto fino alla fine e poi riguardatelo di nuovo Almeno due volte perché poi vi interrogo a saltare Allora ragazzi siamo stati alla Lidl come sempre perché voi lo sapete che noi facciamo la spesa per lo più lì e quindi abbiamo comprato la spesa per la settimanona Intendendo per settimanona sette giorni o poco più Ma veramente ci facciamo tutta questa spesa da sette giorni o poco più? Il grosso Quanto mangi? Quanto mangerà? Intanto volevo dire una cosa volevo chiedere scusa a tutte quelle donne a tutti i nostri amici uomini che si sono offesi anche per quella battuta della fava Ti ricordi quel video della fava? No l'ho dimenticata Eh c'è stato qualcuno che si è offeso io chiedo immensamente scusa ma purtroppo stando con lei capitano di queste cose insomma Di queste battute vulgari Dai nessuno si è offeso e anche chi si è offeso ha capito che tu sei così un burlone Un burlone sì sì io lo dico per scherzo quindi donne soprattutto donne molto femministe non vi offendete Non era femminista era solo educata non vi fate smuovere i nervi Allora bene ragazzi cominciamo subito con una cosa che a noi donne piace l'ammorbidente Sappiamo benissimo che fa male ma a noi non ce ne frega niente e lo continuiamo a comprare Oggi compriamo l'ammorbidente Oggi proviamo il Dussi E se non è rosa, azzurro, giallo o di qualche altro valore non ammorbidire No il Dussi rosa non l'avevo mai provato e ho fatto l'indisciplinata Tra i banconi della Lidl mi sono fatto una bella sniffata ed ha un buon profumo dolce dolce Quindi sono proprio curiosa di sentirlo sul mio bucato Io non sono una fan dei detersivi né del bucato scusate lo poso pesa 50 kg Però comprare 4 litri di prodotto a 2 euro circa insomma fa sempre molto piacere Così come comprarne 3 Maxi Trat mai provato prima questo rosa vi farò sapere 3 litri qua dice per mille mila lavaggi 40 io se ne farò 15 veramente sono tanti Non so perché la mia lavatrice non corrisponde ai misurini dei detersivi Cioè nei detersivi dice che fa 40 lavaggi Però la mia lavatrice ha le tacchette da riempire Minimo, massimo, io siccome la riempio a tappo metto sempre massimo E metti minimo, no? Così ne fai 80 E insomma non vengono mai 40 lavaggi Però vengono dei buoni lavaggi Non come gli scrivono così Basta, basta Questo è un video clean, un video pulito Altra cosa per la lavatrice ho comprato le pastigliette anticalcare Che trovo ottime Io non ho usato il Calgon Ho usato il Calfort Non mi ricordo Calgon mi pare sia quello liquido Ma non mi piace tanto quanto queste Trovo che il bucato quando uso queste faccia più profumo Lo so, devo fare un lavaggio alla lavatrice per pulirlo Ho comprato gli aggeggini Lo farò molto presto e vi farò sapere anche come è andato Perché ho comprato sempre quello della V5 Ma che bello, ma che bello questo video Allora comunque ho comprato queste pastigliette a poco meno di 3 euro E vanno più che bene perché sono ben 51 pastiglie che mi durano questa volta per 51 lavaggi E raccomando riponetele molto in alto, lontano dai bambini Sì perché queste hanno, queste sono attrattive per i bambini Bene bene, ora passiamo alle cose alimentari che piacciono tanto tutti quanti Pasta barilla, pasta barilla in tanti formati Abbiamo preso i fusilli che io adoro Poi abbiamo preso gli spaghetti numero 5 L'Idel porta anche i numero 3 E le mezze penne E le mezze penne rigate però Perché a me la pasta piace rigata E non liscia e viscilla Bene bene, siamo contenti Siamo molto contenti Una confezione di uova bio Le compro sempre 3 Sono 12 uova e sono ottime queste Bio di galline felici Sono galline felici? Fumano erba? Mangeranno erba Poi, poi, per gli amanti dei ceci Mi raccomando, questo è buono sia per le donne che per gli uomini La smetti? Non sa fare mal tutte sulle pavie, sulle coste, i piselli Va bene i ceci Non sono piselli, non sono pavie Ceci Ho comprato Ha comprato, guarda, il formato tipo Abbiamo un cane in casa? Tipo i barattoni del canto No, io mangio i ceci ragazzi Si mangia i ceci molto spesso al posto della carne Una cosa moderata? Sì Una cosa moderata A 35 centesimi in barattolo Veramente Comendano? È solo ceci Guarda, è un pasto completo E costa poco E sono buonissimi Io questi, sapete cosa faccio? Li sgoccio, li sciacquo E poi li inserisco nelle ricette come voglio Addiziono con del brodo fresco Addiziono con delle carotine Brodo, una sorta di minestrone più ricco Lo metto nelle insalate Lo faccio al forno in una periticena Che vi faremo vedere molto presto Insomma Vedrete i mille utilizzi dei ceci Non sottovalutateli E questi sono ottimi La potenza del ceci Anche perché hanno soltanto ceci, acqua e sale Come ingredienti Ottimi, ottimi Comprati E poi i barattoli li potete utilizzare per mille cose Non buttate le linguette Mi raccomando, li utilizzeremo presto su Arte Per Te Poi abbiamo fatto i ceci Vai, vai, vai Per i momenti dolci Sembra uno simolo, un controsenso Gli amaretti Allora, questi biscottini sono ottimi Mi pare che li produca la Matilde Vicenzi Non lo so Forse sto dicendo una castroneria Ma sono ottimi Ma è probabile che stessi dicendo Hanno pochissime calorie 17 calorie per ogni biscottino Quindi sono degli sfizi che uno si può togliere durante il giorno Pensate, insomma, 5 biscottini Sono una buona porzione Però masticati a lungo E sono buonissimi E costano veramente poco Meno di un euro E sono buoni Hanno degli ottimi ingredienti Zucchero, mandorle d'albicocca Albume d'uovo Lattosio, proteine del latte Aroma Agente lievitante Carbonato di acido di sodio Punto E tra l'altro Le uova sono da galline Allevate a terra Sapete le galline felice di prima? Quelle della Giamaica Allora, andiamo avanti Zucche ne avete? No Torna l'autunno E sulla mia tavola Torna prepotentemente la zucca Io adoro questa verde Come si chiama? Veronese? Non mi ricordo Mi piace perché non è granulosa È veneta Veronese Vabbè comunque È buonissima Non so di dove sia Ma è buonissima Perché non è A me non piace la zucca Quella granulosa C'è una varietà Quell'arancione molto grossa Una varietà di quella È granulosa Questa invece è liscia Vengono delle creme fantastiche Io la faccio spessissimo al forno Se vi va di vedere la ricetta Fatemelo sapere che ve la faccio Sì, sì, sì La faremo Ed è buonissima Ne ho prese tre Tre, va bene? Ok Faremo un giveaway Allora, zucca sono venute Un euro Dipende dal peso Insomma Un euro e dieci Un euro e ventisei Un euro più grande Quello e ventisei Va bene E poi? Tieni, fai questo Mi è finita la carta forno Ed eccola qua Rimpinguata Un rotolo 38 cm per 23 Un euro e 79 Queste cose alla Lidl Convengono troppo Questo, l'alluminio La pellicola Non c'è paragone È anche buono per la scuola Se finisce la carta Per la stampante Va bene Un euro e ventisei Mi sono rifatta la carta forno Bravo E ho comprato anche l'alluminio Anche questo super conveniente Rispetto ai supermercati nostri Italiani intendo Perché 29 cm per 50 metri Ed è costato solo 2,99 euro Questo costa tantissimo Di altre marche E comunque mi trovo molto bene Latte, latte Poi per me ho preso Due confezioni di latte Totalmente scremato In questo periodo Ho voglia di cappuccino E lo faccio con questo 0,59 centesimi E una confezione costa 0,59 centesimi Mentre per Enzino Compro il latte Parzialmente scremato 0,65 Lui la mattina lo beve Con un po' di Nesquik Ed è ottimo Questo della Mibona Ci troviamo molto bene Ho preso sempre Della Mibona Il mix di grattugiato fresco Devo dire che Tra tutti i mix in commercio Questo è quello Che mi piace di più Non lo uso spesso Lo tengo nel congelatore Per quando devo fare Quei piatti molto pasticciati 2,99 euro Tipo lasagne È 500 grammi 2,99 euro E gli ingredienti Sono 80% Formaggio a pasta dura Stagionato Latte, sale Caglio Conservante Liso zima Da uovo Non so cosa sia 10% Formaggio grana Padano Dop E 10% Formaggio Parmigiano Reggiano Dop Quindi è un buon mix Certo Non è parmigiano O grana Ma che caglio dici? È buonissimo Spettila che poi devi un programma Dai, dai È la patata Eh vabbè Le patate Le patate Perché sono tante Sono tante Sono buonissime Queste sono La patata di Bologna Dotto La patata di Bologna Dove sei? Ah 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 Patate 2,49 euro 2,99 euro Sono veramente molto buone Mi trovo bene Ah Ah E poi ho preso Un pacco di Tovaglioni di carta fro 8 Che sono buonissimi Mi trovo anche con questi Molto bene Devo dire Sono paragonabilissimi A tutti i tovaglioni Che trovate Nei supermercati italiani A un prezzo Molto Molto Maggiore E costano 1,49 euro Quindi Ottimo prezzo Poco ecologici Ma grandemente comodi I bicchieri di carta 0,55 Questi noi li portiamo A mare Quando andiamo a mare Tutta la famiglia Metto sempre 4 bicchieri Di plastica In borsa frigo In modo Da avere Ognuno il nostro E naturalmente Quando andate via Dalla spiaggia Portateli via Con voi E buttateli Nella spazzatura Idonea Della plastica Ho comprato Tre passate Mutti A me piacciono Anche quelle Loro Della Lidl Per oggi Mi sono capitate Queste tra le mani Devo essere sincera Avevo un po' di fretta E le ho prese Le mutti Sono anche molto buone Le mutti Prezzo Please 0,99 0,99 A boccetta Non sono tra le più economiche Quelle loro Mi piacciono anche Le vuoi dire sinceramente Poi Ho preso Sbagliando Ovviamente Perché ero convinta Di averle prese fondenti Invece le ho prese Al cioccolato al latte Le gallette di viso Mi piacciono anche Col cioccolato al latte 0,99 A confezione Queste non sono economicissime Nel rispetto comunque A quanto le vendono In tutti i supermercati Sì Sono un buon prezzo Però come prodotto Di per sé Se gallette a un euro Non sono economicissime Allora Sì ma non come Lidl Proprio come prodotto È un prodotto modaiolo Allora Buonissimi invece Ed economicissimi I savoiardi Della Real Forno Un euro e zero nove Un euro e zero nove Una bella confezione Da 400 grammi Come i cuginetti amaretti Anche questi Ti passi l'ospizio con poco Perché un grosso savoiardo Ha soltanto 31 calorie E comunque È un bel biscottone Un bel biscottone Ragazzi lo capite Che non lo fa apposta Allora Deve sopravvivere Al video pure lui In qualche maniera Allora Buonissimi Provateli Perché sono veramente Molto 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 buoni Ingredienti ottimi Vediamo se riesco A suntarveli Sì Sunta Sunta È il tuo Specialità 25% Farina di frumento Zucchero 26% Uova Sciroppo di glucosio Argenti lievitanti Carbonato acido di ammonio Carbonato acido sodico Disosfalo sodico E aromi Punto Assuntato da allevamento Da allevamento a terra Sempre galline felici Che bello Poi il tonno Il tonno Nixe Filetti di tonno Pinne gialle Questo per me Io lo prendo Al naturale Mentre per Gabriele Ne ho prese due confezioni Sono le mie cene Mentre per Gabriele Ed Enzo Li prendo Pinne gialle All'olio D'oliva Eccolo qua Hanno prezzi simili Aspetta Te lo dico subito La filetti di tonno 2 euro E 89 Pinne gialle Naturale 2 euro 99 L'altro Ok Per la mamma Il provolone Dai vai con la battuta Il provolone Dolce Perché a lei piace Dolce il provolone Ah Il provolone Sempre per la mamma Sempre per la mamma Il vasetto Il secchiello Per il mare Il vasetto Di yogurt Lei questo Mia mamma Che è magrissima Tra le altre cose Lo mangia Tutto in una volta Le si mette davanti alla tv E una sera Per cena Mangia questo Costa 1 euro 99 Ed è un tile che ruolo Non mi mangio solo questo No Mangia anche questo Mangia anche questo Allora Perenzino Poi si fa il panino Poi si mangia il gelato Non sono affari vostri Perenzino No vostri Suoi intendevo Perenzino Le Kinder Fette al latte Di cattivissimo me Perché lui è fissato Lui le mangia sempre Le fette al latte Però queste con cattivissimo me Non potevano 2 euro e 49 I limoni Alla Lidl Questi sono italiani Provengono da Latina Ma voi direte Ah che vergogna Con i vostri limoni Non prendete i vostri Alt Da noi è difficilissimo Trovare i nostri limoni Nei supermercati Perché i nostri limoni Li lasciano sugli alberi Mentre poi Li portiamo da fuori Non chiedetemi Perché Perché Lo so Ma non vi va di parlarne In questo video Poi Olio extravergine Ma anzi Siamo fortunati Perché sono italiani Almeno la Lidl Investe in Italia Sì e poi c'è scritto Che non sono trattati E non sono trattati Mentre Nei supermercati Sono spagnoli Quindi tanto meglio Guarda Puccia commestibile Esatto Poi Olio extravergine 4,19 4,19 Originali Dell'Unione Europea Anche questo Molto buono Ottenuto direttamente Dalle rive Unicamente Mediante Procedimenti Meccanici Comunque È un buon olio Senza infame Senza l'ode Mentre questi siciliani Tre pomodorini Datterini Siciliani Tre convenzioni 1 2 E 3 E di là Finoli 2,99 Alla faccia No Non alla faccia un corno Sono 50 grammi Costano pochissimo Veramente Finoli costano un botto Da per tutto Poi Sempre per Enzino 2,49 Per le sue pause Merenda Le Pinguì Lui adora Le Pinguì Proprio È la sua merenda preferita E Le compro volentieri Perché tra Le variegate Schifezze Che ci sono in giro Queste possono andare Ho comprato 6 Mozzarelle Light Sono molto buone Queste mozzarella Light Della L'Ovilio Sono buone Perché 69 centesimi Lune E poi 100 grammi Di mozzarella Hanno solo 165 calorie Sono davvero Davvero Buone Le mangio Gabriele Con grande soddisfazione Le metto Nei panini Nella piadina Buone 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 Le due Tradizioni Di qualcosa Perché non è che stanno Di molto Come tutte queste mozzarella Le embustine Purtroppo è così È la vita Cattiva Per la piccola Bucle abbiamo preso 800 grammi Perché ne abbiamo preso Due confezioni Di macinato di carne bovina Lei mangia questa Le faccio La bella polpettina Mi avete chiesto Un video Sull'alimentazione Di Bucle Faccio prima A dirvelo qua Io faccio Tante polpettine Da 80 grammi 80 barra 100 grammi Di tritato E le surgelo Le metto in freezer Poi ogni tanto Una volta ogni due giorni Le adizioniamo qualche cosa Sì Una volta ogni due giorni Cosa faccio Prendo le polpettine Metto delle carotine Un pizzichino di cipolla Perché i cani con la cipolla Vanno incistite Quindi un pizzichino Appena giusto Per dargli il sapore Carotina Faccio bollire bene No sale E poi conservo Il brodino Da una parte E gli hamburgerini Diciamo così Le polpettine Dall'altra Ogni giorno Prendo una polpettina Prendo un pochino Di pasta Tipo Di spaghettini spezzati Perché lei mangia la pasta E non mangia il riso Perché non le piace Faccio la pastina Col brodino Un pizzichino Piccolo piccolo Di olio extravergine Di oliva E bouclè A pranzo E a cena Mangia questo Quindi questa è l'alimentazione Del mio cane Punto Anzi del suo cane Poi Scamorza affumicata Un euro e 89 Me la faccio molto spesso Con la zucca La quantità di formaggio fresco Che mi spetta Io metto la zucca in forno Con pochissimi grassi La faccio andare con olio Rosmarino Aglio E la faccio ben Amm Ammorbidire Di prosciutto crudo Stagionato 14 mesi Sono 2,99 euro al pezzo A confezione E ogni confezione Contiene 120 grammi di prodotto Poi Perenzino Che lo adora Io sono felicissima Ho preso Il petto di pollo Alla brace Quindi 2 confezioni E 2,49 euro E il petto di tacchino Al forno Che bello Sono ottimi Lui non ha capito Che petto di pollo E petto di tacchino Pensa sia prosciutto Me lo chiama prosciuttino E io per prosciuttino Glielo do Bravi Poi Per la mamma Per la nonna Due confezioni Di Mortazza di Bologna Quella con i pistacchi Perché sennò A noi non piace 1,39 euro E poi Per chi lo vuole Ogni tanto In 10 giorni Massimo Una confezione Di salame Di Milano 1,49 euro Fate conto Che queste cose Poi mi arrivano La settimana dopo Io Ancoro 2-3 confezioni In frigo Della spesa precedente Brava Per me Quando voglio fare la monella Due confezioni Di Coca Zero Sapete Quando la mangio Quando compriamo Il sushi Quando la bevi Quando compriamo Il sushi Mi rimane Quello retrobusto Di pesce crudo Che non mi piace Tanto in bocca E Tolgo Sgrasso Il palato Con questo Idem Quando mangio La pizza Ragazzi Si che sei brava Potrei Parlarvene Sul canale Ombretta Ma Sinceramente Ho appena Ho appena fatto Una all beauty E non mi va Di aggiungere Queste cose Allora Ho preso Per mia madre Una paletta Estanera Colore Biondo Scuro Mia madre È sempre La ricerca Risperata Di una buona Tintura Vediamo Questa Come sarà Costava pochissimo 3,80 euro Quindi gliel'ho presa E poi Per me Non mi ricadone i capelli No Per me Ho preso Questi due Allora L'olio Anticellulite Birch L'ho sempre Utilizzato Voi sapete Come lo utilizzo Nella fase Doccia Mentre Se non lo sapete Seguitemi Su Ombretta Il mio canale Di beauty E lancia Non ormella Non orietta Ombretta Ombretta No perché Mi abbiano i nomi A questa povera ragazza Ombretta È il mio altro canale Di beauty Lifestyle Cosmesi Tempo libero Chiacchiere di vita Quello che mi pare Sì sì È un bel canale Infatti si chiama Ombretta Parla di me Come donna Un canale che dice anche agli uomini Vero? Non lo so Ditemelo voi E lì vi dico In molti video Come lo uso Così come vi saprò dire Sempre su quel canale Come mi trovo Con la nuova Con il nuovo gel Contro gli inestetismi Della cellulite Effetto a caldo Che dite? Stasera glielo faccio un impacco i capelli A Gabriele Non lo so Non lo so Bene Questo video Non è finito No Finisce qui E adesso E adesso La parte più bella Del video Perché Approfittiamo di questo Vuota la spesa Per ringraziare La Lidl Che ci ha inviato Un goloso pensiero Un goloso pensiero Abbiamo credito Un carrello di spesa Magari Però Un buono da 100 euro Un buono da 100 euro Non è vero Non sarebbe bastato Comunque per fare la spesa Però noi ringraziamo Non è vero Noi abbiamo credito Sapete tanto cosa? Non il contenuto anche Perché adesso vedrete cos'è Una cosa Un pensierino davvero goloso Ma il fatto che La Lidl Ci abbia mandato Un pensiero Vuol dire che Ha visto che facciamo Video su di loro E quindi È come dire Ok ragazzi Ci siamo accorti Di voi Bene Ho questo Una denuncia Allora grazie per il pacco E quindi Noi comunque Attendiamo sempre Il buono da 100 euro No no Adesso Lo vuoi assaggiare Quello che c'è qua dentro La loro compagnia Assaggiamo Allora Apriamo insieme Abbiamo aspettato voi Noi sappiamo cosa c'è Ma abbiamo aspettato voi Per aprire Ma va Dentro questo bellissimo pacco Che è troppo bello Abbiamo trovato Una No Peccato Abbiamo trovato Una Novità Della Lidl Che oggi già In supermercato Era in commercio Quindi da oggi La trovate Anzi da ieri La trovate E sono i croissant Fantastico E cereali Con crema di pistacchio E cioccolato Senza olio di palma Sono Oh scusa Sono i croissant Il cui gusto Lo scelgono I clienti Della Della Lidl Farina di frumento Farcitura Al cioccolato Vedo se c'è qualcosa Di Zucchero Latte Scremato In polvere Dai Si possono mangiare Andiamo a vedere Li assaggiamo Speriamo Speriamo che sia Un buon gusto Perché se questo gusto Non è stato scelto bene Beh sono Ma devo dire Che pistacchio Cioccolato È un gusto Che gli utenti Facebook Di Lidl Scelgono sempre C'è sempre Gelato C'è sempre Questo C'è sempre Questo Conutio Andiamo a vedere Come si presentano Cornettazzo Della Nastrecce Eccola qua Lo assaggiamo Con voi Lo apriamo E c'è la crema E già Questo Ci piace Sì ci piace Tieni Particolare Però buono Buono Vero questo caldo Buono C'è sia il pistacchio Verde Che il cioccolato Marrone Proprio Mischiato Insieme Bene Grazie Lidl Domani faremo colazione Con questi Buoni cornetti Grazie per averci mandato Questo simpatico pacco Ma ce ne sono All'interno E sono Sei cornetti Sono dei cornetti Big size Brava Con queste Tue notizie Ci rendi sempre Molto allegri A me piace Grazie Lidl Per averci mandato Questo Ripeto Il buono Fallo almeno Da 150 Perché lei Smettila Che poi ci credono Ebbene Salutiamo I nostri amici Salutiamo Tutti quelli Che ci incontrano Da Lidl Mi raccomando Saluto Ah oggi Stasera è stato carinissimo Perché alla cassa Offriteci un caffè Offriteci un cacera C'era una cassiera Dolcissima Che si chiamava Maria Cristina Provalato Maria Grazia Brava E quindi Mando un grande bacio A lei E a tutti i ragazzi Che lavorano alla Lidl Che vanno velocissimi Io non capisco Perché battano la cassa Così velocemente Non l'ho mai capito Questa cosa Mi fanno venire l'ansia Però sono bravissimi Mi insaccano tutto così Ta 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 Non so Anche nelle vostre Lidl Vanno alla velocità della luce Bene Quindi grazie a questa ragazza Che ci ha salutati Qual è il nome di questa ragazza? Penso Maria Grazia Ma non mi ricordo Non me lo ricordo Bene Quindi ragazza Perché mi sono emozionata Quando mi ha detto Che mi seguiva E poi non ci ha fatto lo sconto E quindi Meglio non dire il nome Basta No no Grazie infinite invece E se ci segui Scrivimi esattamente Come ti chiami Credo Maria Grazia Però non ne sono più certa Bene ragazzi Grazie Spero che questo video Vi sia stato utile Per darvi un'idea Di quello che è di buono E io compro Alla Lidl Di quello che io trovo Buono Alla Lidl E non è un video Troppo pieno di bugolosità Perché naturalmente Il mangiare bene Comincia già Dalla scelta Sì Cerchiamo di fare una dieta Vedremo Forse tra due giorni La molleremo Con questi sarà molto facile E noi quindi Vi salutiamo E vi rimandiamo Alla prossima Che sarà una videoricetta Si spera Ci vediamo sempre qui Sulle vostre tavole Ciao Ciao